E' stato arrestato in Sudan il terrorista tunisino Moez Fezzani, conosciuto come Abun Assim, considerato tra i reclutatori dell'ISIS in Italia. Nel 2014 è stato condannato in via definitiva a Milano per associazione a delinquere con finalità terroristiche. Nel 2012 invece era stato assolto in primo grado e poi espulso dal nostro paese. Fezzani, secondo gli investigatori dell'antiterrorismo, avrebbe fatto parte di una cellula salafita per la predicazione e il combattimento con base a Milano che reclutava uomini da inviare nei paesi in guerra, Siria, Iraq e Libia. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale messo dalla procura generale del capoluogo Lombardo dopo la condanna definitiva a 5 anni e 8 mesi di reclusione. Da quanto è dato sapere è stato individuato e arrestato in Sudan grazie al lavoro dei nostri servizi segreti. Nato a Tunisi nel 1969, Moez Fezzani è considerato militante di Al-Qaeda. Era stato catturato una prima volta in Pakistan, poi detenuto dagli americani nella base di Bagram e poi estradato in Italia. Nel 2012 venne espulso in Tunisia. Successivamente venne individuato in Libia mentre gestiva campi di addestramento per Mujeddin. Poi nel 2013 si recò in Siria e poi ancora in Libia sempre per reclutare aspiranti combattenti. Era ricercato anche dalla Tunisia per l'organizzazione degli attentati al Museo del Bardo e in un albergo a Sus. Durante un interrogatorio ai magistrati raccontò di aver vissuto a Milano vendendo eroina e hashish e poi diventando un uomo pio e religioso.